Alessandro Zanardi, detto Alex, è un pilota automobilistico e paraciclista italiano. Nell'automobilismo si è laureato campione kart nel 1997 e 1998, e campione italiano superturismo nel 2005. Proprio in questi giorni in cui gli atleti paralimpici si stanno confrontando con uno dei momenti più importanti della propria carriera, un video riguardante Alex Zanardi ha risvegliato emozioni che sembravano sopite nel cuore di tutti i suoi fan. E non si tratta di un filmato riguardante le sue imprese sportive, almeno non direttamente, perché a volte sono le parole a coinvolgerci e toccarci anche più delle immagini in presa diretta. Lo dimostra questa breve clip, in grado di far provare brividi sinceri a tutti gli appassionati di sport e di toccare nel profondo le corde del nostro cuore. In un'estate di concerti e spettacoli che hanno attraversato la penisola da nord a sud, non si è fatto mancare delle esibizioni, come sempre emozionanti un maestro come il professor Roberto Vecchioni. In particolare, in questi giorni il cantautore milanese ha regalato ad Alghero un concerto di altissimo livello, in cui non è mancato anche un momento dedicato al grande Alex Zanardi. In un'estate di concerti e spettacoli che hanno attraversato la penisola da nord a sud, non si è fatto mancare delle esibizioni, come sempre emozionanti un maestro come il professor Roberto Vecchioni. In particolare, in questi giorni il cantautore milanese ha regalato ad Alghero un concerto di altissimo livello, in cui non è mancato anche un momento dedicato al grande Alex Zanardi. Alex è un grande contro il destino, un uomo che ha ripreso a camminare, correre e volare più volte, anche quando non poteva più farlo, ha raccontato il grande cantautore. Citando i versi del poeta turco Nazi Mikmet prima di regalare al pubblico il brano, ti insegnerò a volare, scritto con Francesco Guccini e dedicato proprio ad Alex Zanardi. Un modo unico per rendere omaggio a uno dei più grandi sportivi che l'Italia abbia mai avuto.